Salve, oggi parleremo di dispositivi cardiaci impiantabili. Cominciamo dal pacemaker che è un dispositivo che invia uno stimolo elettrico alla muscolatura cardiaca mediante un elettrodo al fine di mantenere e regolare la contrazione quando il sistema di formazione e conduzione degli impulsi è alterato. Gli elementi funzionali sono il generatore di impulsi, la batteria, il sistema elettrocatetera. Abbiamo diversi tipi di pacemaker, pacemaker monocamerali in cui l'elettrocatetera è localizzato o in atrio o in ventricolo di destra e pacemaker bicamerali in cui abbiamo un elettrocatetera in atrio e l'altro in ventricolo di destra. Gli elettrocateteri sono di due tipi. I monopolari erogano l'impulso di stimolazione facendo circolare la corrente elettrica fra la punta dell'elettrodo e la cassa del dispositivo stesso, dando all'ECG questa tipica stimolazione con gli spike visibili. I bipolari invece hanno sulla punta del catetere un anello conduttore a cui la corrente elettrica ritorna, per cui non daranno gli spike di stimolazione e sono tipici realtà dell'ECD. Le indicazioni per il pacemaker sono la bradicardia sintomatica, i blocchi senotriali atrioventricolari gravi o sintomatici e l'insufficienza cardiaca caratterizzata da bradiaritmia. Abbiamo inoltre una stimolazione biventricolare in cui un elettrocatetere viene posizionato in ventricolo di destra e l'altro nel ventricolo di sinistra dove la conduzione si realizza più tardivamente. I pazienti indicati a tale terapia presentano una severa disfunzione sistolica con una frazione di aiezione inferiore al 35%, qui si accompagna un ritardo di conduzione ventricolare che provoca un allargamento del QRS e una disincronia meccanica fra le pareti cardiaca. Il concetto di pesme cardipendenza è molto importante, indica l'assenza di un ritmo spontaneo o una frequenza cardiaca inadeguata per cui l'attività elettrica ventricolare del paziente è strettamente correlata all'attività del pacemaker. Alcuni soggetti possono presentare dei blocchi parossistici per cui risultano pacemaker dipendenti solo per alcuni periodi. L'impianto del pacemaker richiede un intervento di anestesia locale, viene effettuata una piccola incisione sotto la clavicola, l'elettrocatetere viene inserito attraverso la su clavia e viene eseguito sotto guida radioscopica fino al raggiungimento della camera cardiaca interessata. Una volta fissato alla parete, l'elettrodo viene connesso al pacemaker e successivamente il pacemaker viene allocato in una tasca nella zona del muscolo pettorale. Il defibrillatore cardiaco impiantabile, invece, osserva costantemente i battiti del cuore e interviene quando rileva aritmie che potrebbero rivelararsi fatali per il paziente. Interviene in due modi, o con la stimolazione alta frequenza per cui stimola il cuore a una frequenza più alta di quella che ha rilevato in modo da catturarla e interromperla oppure con uno shock, ovvero rilascia una forte scarica di corrente elettrica attraverso il cuore che interrompe la tachicardia in corso. Inoltre, il defibrillatore impiantabile, come il pacemaker, interviene anche in corso di bradicardia. Le indicazioni sono di due tipi, la prevenzione secondaria per quei pazienti in cui c'è un rischio noto di morte cardiaca improvvisa, che hanno avuto una progressa di fibrillazione ventricolare o una tachicardia ventricolare con emodinamica instabile, oppure la prevenzione primaria per quei pazienti dove c'è un aumentato rischio di morte cardiaca improvvisa, perché hanno insufficienza cardiaca con una frazione di aiezione inferiore al 35%, la sindrome di Brugada o la sindrome del QT lungo. L'impianto dell'ICD si realizza allo stesso modo dell'impianto del pacemaker. L'unica differenza è che al termine dell'impianto dell'ICD bisogna effettuare il test induzione della fibrillazione ventricolare per valutare che il dispositivo riconosca diciamo la tachicardia ed intervenga erogando una scarica e instaurando il ritmo regolare. Esiste una nomenclatura internazionale per la programmazione di questi dispositivi che fa riferimento a cinque classi. Ogni classe corrisponde a una lettera. La prima lettera corrisponde alla camera che verrà stimolata, la seconda lettera la camera che viene sentita. La terza lettera ha l'attività che il dispositivo deve attuare quando sente la camera. La quarta è una classe opzionale che tutti i dispositivi hanno di modulare la propria attività sulla base dell'attività fisica del soggetto. La quinta classe infine fa riferimento alle funzioni antitechicardiche. Un esempio è il codice AAI che indica che si stimola l'atrio ma quando si sente un'attività intrinseca dell'atrio il dispositivo inibisce la sua attività. Questo è un tipico codice che può essere utilizzato per quei pazienti con la malattia del nodo del seno che hanno una normale conduzione atrioventricolare. Il secondo codice VVI indica che verrà stimolato il ventricolo ma se è presente un'attività intrinseca del ventricolo stesso l'attività del dispositivo si inibisce. Questo è un codice invece che può essere utilizzato nelle bradicardie quando non è conservata la conduzione atrioventricolare. La gestione di questi pazienti nel perioperatorio richiede la collaborazione non solo del team di saloperatoria costituito dall'anestesista e dal chirurgo ma richiede anche la collaborazione con il cardiologo e l'elettrofisiologo per ridurre eventuali rischi che potrebbero verificarsi. Rischi legati all'interferenza elettromagnetica che possono o inibire la stimolazione o determinare l'erogazione di scariche inappropriate, danneggiare il dispositivo e oppure resettare la programmazione. L'elettrobistui rappresenta uno dei principali responsabili delle interferenze con l'attività del dispositivo, in particolare l'elettrobistui monopolare che è quello più utilizzato. Come funziona? La corrente elettrica è applicata mediante un elettrodo al sito operatorio, questa poi defluisce lungo il corpo del paziente e ritorna alla placca di dispersione posizionata sulla guta del paziente. In questi casi bisognerebbe posizionare la placca di dispersione a terra più lontano possibile al dispositivo e utilizzare questi elettrobisturi per brevi intervalli osservando sempre la risposta all'ECG. L'elettrobisturi bipolare invece è caratterizzato da una pinza in cui ogni estremità costituisce un elettrodo per cui il passaggio della corrente è limitato solo all'estremità della pinza, quindi non causa interferenze a meno che non sia usato direttamente sul dispositivo. Nella fase operatoria è importante non solo valutare i fattori inerenti alla chirurgia che fanno riferimento all'utilizzo del elettrobisturi monopolare, al tipo di intervento chirurgico, alla localizzazione anatomica e alla procedura facendo distinzione fa procedura al di sopra e all'ombelico che sono quelle a maggior rischio di interferenza elettromagnetica. Dobbiamo anche conoscere il posizionamento del paziente e sapere se si tratta di procedure chirurgiche al distretto cardiotoracico. Però dobbiamo avere delle informazioni anche riguardanti il device, quindi il tipo di dispositivo, qual è stata l'indicazione dell'impianto, come è programmato, se sono stati effettuati i regolari follow-up che devono essere di 12 mesi per il pacemaker, di 6 mesi per l'ICD e poi bisogna sapere se il paziente è pacemaker dipendente. Nella fase intraoperatoria possiamo sfruttare l'effetto magnete. Il posizionamento di un magnete sul pacemaker determina la programmazione in modalità asincrona, assicurando quindi una frequenza cardiaca del meno 65 battiti per minuto. Nel caso dell'ICD invece il posizionamento del magnete non modifica la programmazione antibriaticardica ma sospende soltanto il riconoscimento del tachicardia. Possiamo quindi dire che il magnete rende il pacemaker temporaneamente sordo e l'ICD temporaneamente muto. Il principale vantaggio è il fatto che la rimozione del magnete ripristina rapidamente la programmazione iniziale. Un'alternativa all'utilizzo del magnete nell'interoperatorio è rappresentata dalla riprogrammazione che però deve essere effettuata dall'elettrofisiologo o dal cardiologo. Questa è inoltre indicata nei pazienti che hanno le ICD e che però sono anche pacemaker dipendenti. Lo svantaggio principale è rappresentato dal fatto che le modifiche apportate non sono rapidamente reversibili per cui è indicato un continuo e stretto monitoraggio del paziente fino al momento in cui non viene instaurata la programmazione di partenza. Inoltre nell'introoperatorio è importante utilizzare un monitore ECG che abbia la modalità pacing e che quindi sia in grado di riconoscere i battiti stimolati. Questo algoritmo fa riferimento a quelle chirurgie a maggior rischio di interferenza elettromagnetica ovvero chirurgie che si realizzano al di sopra dell'ombelico dove è previsto l'utilizzo del bisturi monopolare. I pazienti con pacemaker devono essere valutati per sapere se sono pacemaker dipendenti o non pacemaker dipendenti. I pazienti non pacemaker dipendenti avranno una gestione più semplice nel senso che è importante avere la disponibilità del magnete ma questo verrà utilizzato solo in caso di bradicardia o tachicardia eccessiva e poi le placche per il pacing esterno della defibrillazione verranno applicate solo se c'è un posizionamento dentro operatorio difficoltoso. Nel caso invece di pazienti pacemaker dipendenti applicheremo il magnete quindi o la riprogrammazione in asincrono e applicheremo anche le placche per il pacing esterno e la defibrillazione. Per i pazienti con esidi bisognerà allo stesso modo valutare il concetto di pacemaker dipendenza. Se il paziente non è pacemaker dipendente sarà necessario posizionare le placche adesive e poi utilizzare o il magnete o la riprogrammazione per bloccare l'attività antitachicardica. Nel caso invece di pazienti con esidi pacemaker dipendenti oltre al posizionamento delle placche sarà necessario programmare il dispositivo in pacing asincrono e o disattivare le terapie antitachicardiche o utilizzare il magnete. Nel postoperatorio è consigliabile effettuare un ECG di controllo a tutti i pazienti. Prima della dimissione bisogna effettuare un controllo del device soprattutto per pazienti con esidi nel caso di chirurgia cardiovascolare, nel caso in cui si siano verificati eventi cardici intraoperatoria o nel caso in cui ci sia un'elevata probabilità di interferenza elettromagnetica. Il controllo del device deve essere effettuato entro un mese invece nel caso di utilizzo di bisturi monopolare, terapia elettroconvulsia e litotrissia. Negli altri casi non è necessario effettuare il controllo del dispositivo. In urgenza invece è fondamentale tentare di riconoscere il dispositivo chiedendo al paziente se è il tesserino o contattando l'azienda produttrice. Potremmo anche riconoscere un ECG alla radiografia perché la porzione terminale dell'elettrogatetere è più radiopaca o ancora un ECG generalmente si trova nella zona pettorale di sinistra mentre un pacemaker può trovarsi anche a destra. L'ECD inoltre emette degli allarmi acustici e quando all'ECG abbiamo gli specchi di stimolazione è più probabilmente un pacemaker con degli elettrogateteri monopolari. Se il dispositivo non può essere riconosciuto e ci troviamo in una situazione di emergenza si consiglia comunque di applicare il magnete e le piastre per la defibrillazione e il pacing esterno. In caso di arresto cardiaco la rianimazione deve essere eseguita come se non ci fosse un dispositivo avendo l'accortezza di posizionare le placche per la defibrillazione esterna il più lontano possibile dal dispositivo e nel modo migliore come nell'immagine in senso anteroposteriora. Ricordiamo inoltre che non vi è alcun rischio per l'esecutore dell'RCP o per chi sta toccando del paziente mentre viene erogata una scarica dall'ECD. Questa è la bibliografia che abbiamo utilizzato. Vi ringrazio per l'attenzione.